ovviamente non mi sfida il compito qui dovremmo essere in live vediamo se poi qualcuno scrive per avere la conferma dato che non posso controllare ok ha scritto meme quindi meme ha scritto robo e quindi siamo in live perfetta benvenuti ciao robo anche noi siamo in live quindi un saluto anche da me ciao leo buonasera siamo in live doppio doppio streaming sia sul mio canale sia sul canale twitch di leo vecchio nubbo quindi tipo siamo in mondo visione si si ci manca proprio il giusto radio maria che è quella che copre più tutto ci stiamo arrivando insomma mi hanno dato il pennone si si mi hanno proprio ci ospitano loro e qui con noi c'è anche in silenzio ma c'è il buon alfonso ciao a tutti buonasera grande ciao alfonso allora io qui c'ho il buon vth buonasera buonasera c'è anche lucio c'è che come alfonso scrive o parla dice che alfonso in realtà sta lucidando le armi per tutti perché è quello che va più al sodo capito cioè lui è quello che è in macina si sta caricando per stasera allora Arashi sta uscendo una figata grande Arashi grazie mille grazie mille oh mio dio ora mi ha nominato il più grande slibrato della storia mi ha nominato ciao Sebastiano allora Sea of Thieves con la ciurma peggiore di tutti i bar di Caracas e intanto avvio una ciurma tutta da ridere e approfitto per ricordare a chi mi dovesse seguire da Twitch che RoboJoker sul suo canale YouTube ha fatto una bellissima video recensione di Sea of Thieves siccome è un gioco che ha suscitato tante filosofie io mi trovo molto in quello che hai scritto come ti ho anche risposto mi fa piacere ma non solo ma anche l'ha fatta veramente molto molto bene dal punto di vista anche qualitativo e tecnico quindi se avete ancora qualche dubbio o se volete sentire una seconda opinione andatevi a guardare il suo video su YouTube perché merita grazie grazie Leo infatti Arashi ha scritto RoboJoker che arrossisce un sacco mi fa piacere mi fa piacere ci tenevo a fare quel video perché appunto ne ho sentite davvero di peste e corna su Sea of Thieves critiche sicuramente giuste tante immotivate quando secondo me veramente Sea of Thieves è una killer app non da poco ormai manca poco peraltro mancano pochi giorni alle prime espansioni gratuite per chi ce l'ha quindi vedremo allora non mi schippa ok mi sta schippando il video non riuscivo a schipparlo più allora ho comprato Maxi di Landog grande meme Al ma Al scrive in chat allora vai Al invitami pure e invece su Nerd Dream che sponsorizza la mia trasmissione che è la rivista online per la quale scrivo recensioni di videogiochi eccetera eccetera su quella invece trovate qualche anticipazione su i DLC che usciranno maggio giugno proprio su Sea of Thieves che sarà roba molto ghiotta bene nerdream.it sì allora se qualcuno mi riesce a linkarmelo in chat fatemelo anzi mi fate un gran favore fate un gran favore se andate su Nerd Dream e linkate il sito pronti per saltare? quando vuoi io ci sono cominciamo a scaldare la serata cosa si ottiene unendo l'oro e l'alluminio l'alloro stavo per fare un brindisi ah no pensavo tu stessi per fare il primo ban no quello ci ottiamo per metà serata ok ragazzi nel frattempo i nostri ammini non si incontrano tra un po' ma come vedrete il mio purtroppo nel frattempo ha perso una gamba è stato un momento duro con uno squalo mi sa che l'hanno persa tutti la gamba eh allora questi squali sono troppo 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 ma la gamba la gamba di legno fa uomo di mare eh esatto è necessario io loro in primi soldi mi compro la cosa la gamba di legno io ero sto valutando se prendere un cino io invece mi sono preso il fucile d'oro perché insomma poveraccio si ma alla grande a Livorno si fa così a Livorno si fa vestiti con uno ma corcate non è d'oro di 2 kg era perfetta per questa cosa dici barboni ma con stile eh si la barboni è senza stile ma proprio pacchiani ok Checola ha linkato Nerd Dream credo sia questo immagino che l'abbia visto insomma se c'è il buon Leonardo credo che dovrebbe essere quello il sito il link del del portale Daniel Corradini saluti ciao Daniel ciao Daniel a me dice a me Sea of Thieves non fa impazzire i giochi online non sono i miei preferiti ma quello insomma ci sta se il gioco online non ti piace ma quello sono gusti insomma se il gioco online non piace a prescindere che Sea of Thieves sia definibile come un bel o un brutto gioco ci può fare poco a me quindi io cerco di far scorta di robe io sto ancora caricando ragazzi io mi avvio al nostro galeone cominciate sarò in line la mia migliore amica grande grande VTH ci sono ok ci sono ci sono è arrivata una bella giornata di sole vediamo se esco a trovare qualcuno tanto spengo le luci quindi deduco che tu Leo sei già sulla nave io si sono sulla nave mi sono avviato per rubire un po' il ponte ciao Francesco la barca quel giorno non ho capito Francesco bravo Lucio bravo Lucio ottima osservazione ciao Giovanni ciao Lucky ciao Lucky ciao carissimo allora ciao Francesco ciao benvenuto Francesco Francesco Lombardo peraltro ciao Francesco dov'è 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 eccolo fatti vedere com'è ma tu ti zoppi ah però te corsandolo te corsandolo sei avanti eh eh beh zoppi e corsandolo in quell'altro sei avanti però aspetta dove 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 ecco io mi sono preso le armi le armi d'oro eh vabbè si è fatto i soldi cioè guarda lì ma sei che ho scoperto da poco che ci sono i tasti rapidi di esempio io mi sono impostato ecco l'ho tipo già già perso il cannocchiale ma ha perso la banane ah perché non ho le banane quindi non le tira fuori giustamente che era brutta da dire però va bene ci sono i tasti rapidi perfetto potrei impostare allora il mio super mausone prima o poi lo farò si io ad esempio ho impostato il tasto rapido banana e cannocchiale che sono quelli che uso di più bravo ho mai giocato a far cry no purtroppo no purtroppo no ciao al invece la cosa che hanno fatto dov'è al fammelo vedere la cosa che hanno fatto carina è che hanno finalmente spostato la cassa delle munizioni da sotto l'armadietto perché si sbagliava sempre hanno spostato di pochissimo eh di un metro però non ci si sbaglia più c'è quel metro interessante ciao Marco per me il softest ha soffritto un po' delle critiche fatte alla carenza di esclusivi xbox che ha un po' oscurato quello che è il gioco e può dare parla possibile solo di ps4 ma su quella ragione nel senso il luogo comune no vuole l'xbox come console no private esclusive il fatto cos'è ragazzi ora vi do una statistica e questo ringrazio il buon devil kree che l'ha scritto ho avuto modo di leggerlo sapete quanto incide nelle vendite la presenza o meno di esclusive? il 10% ed è non è una frase fatta è una statistica fatta studiata il 10% quindi e io non me l'aspettavo pensavo fosse molto di più in realtà nel mercato delle console invece è solo il 10% e questa è una critica che è nata per appunto il fatto che a quanto pare da credo notizia delle tre alo la mastership collection che è una collection una collection video ludica più bella in assoluto secondo me uscirà anche per pc e tu giustamente hanno detto insomma giustamente che è l'xbox per dell'esclusiva maggiore che era d'alo no però io credo che microsoft che ha un fatturato che chiude sempre in attivo che espande il proprio pubblico che può essere di giocatori che può essere sia su xbox sia su pc fa un grande lavoro di comunità video ludica nel senso che anche in un posto di xbox concede la possibilità di giocare un titolo come ha insomma quindi non è roba da poco peraltro leggevo che la battaglia era proprio questa se sony sta trionfando da anni nel numero di console vendute quello che ha sconvolto il mercato in questi ultimi mesi sono state le scelte sull'online fatte da microsoft che infatti invece ha 4 volte gli abbonati ai servizi live e quest'idea di mettere tutti i giochi targati microsoft sin dal day one free per chi ha il pass è un po' come dire ragazzi noi ci stiamo spostando sul modello netflix ma scherzi non è più un'esclusiva poi se ci pensi perché alla fine avendo la possibilità di essere giocato questi giochi sia su pc che su xbox cioè sono penalizzati solo quelli col mac perché gli altri possono vedere tutto anche perché poi insomma rilasciare soft thieves che è un gioco che all'uscita quanto scalpore ha fatto anche per il numero di vendite metterlo disponibile da subito su game pass cioè non è roba da poco eh anzi no no infatti anzi dunque voi che livelli siete perché io poi non è che in questo periodo ho dovuto provare altri giochi quindi sono su 16 15 15 quindi sono un po' scaricati 15 15 15 sono quanto al? 20 18 16 ah vabbè sono 17 15 11 allora siamo vicini dai perfetto il business è finito ora in giro vediamo gratis di cosa state parlando? va avete votato le zoccola ok pixar non so cosa sia Daniel indica un po' questa statistica recupererò sicuramente il video di devil kree non so se l'ha fatto in un video l'ho letto in un discorso che ha fatto lui e aveva un gruppo dove siamo noi e parlava di questa cosa però penso che l'aveva parlato anche in video sicuramente christian quando non ho votato scusatemi ragazzi va bene ce l'ha approvato in maggioranza ok i due terzi del parlamento dunque vediamo un po' dove si deve andare la missione è quale? perché io ho tre c'ho due missioni quelle diciamo in dovinello e una cos'è la caccia al tesoro? tre forzieri in un'isola io c'ho uno e uno allora la chi dice microsoft secondo me andrà più sul multimediale servizi in aumento si va prima a crescent time questo può solo che essere un bene un mercato in lotta fra agenzie un mercato ricco per i nuovi giocatori monopolio non giova a nessuno tantomeno a noi che giochiamo ma infatti ma infatti è la scelta del puntare tantissimo sulla retrocompatibilità di microsoft conferma quello che tu hai detto ehi ragazzi c'ho la copia di morrowind per xbox non vedo l'ora di giocarlo anche su one ma si per dire ora mi ho messo anche blinks non vedevo l'ora di giocarlo blinks qui andiamo su crash and dial si e si va di bottino quindi si 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 parte con quella poi io ne ho tre di tutto una per una quindi proprio a me si può fare quello che volete ah magari vi do una mano con le vele scusatemi ah ma ti c'è fatto tutto? sono molto utile a questo giorno più o meno abbiamo appena cominciato ha fatto tutto Alfonso te l'ho detto noi possiamo chiacchierare del più e del meno Alfonso regge la barata si infatti ti ho detto che non hai visto la battle no come ho detto prima infatti non ne ho nemmeno detto mi provo in privato con con Leo e con Al è una settimana questa ma anche quella di prima che è al lavoro e mi sta mangiando vivo mi sta mangiando vivo cioè c'è un motivo se non stanno uscendo video e niente c'è un motivo ragazzi non riesco a toccare il pc se non la sera tardi quando gioco con i ragazzi o per fare le live non riesco a toccare il pc ragazzi cioè avevi caricato anche tutti i computer i chi si compiute i cannoni bestiale data che stiamo andando troppo in là allora qual è l'isola andiamo questa qua sulla sinistra mi sono permesso di virare capitano ma l'avevo visto romantico tutto ovest scusate tutto ovest come si dice ovest in 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 linguaggio nautico non mi far fare questi pezzi che c'ho anche che c'ho anche il suocero architetto nautico che se mi sente sbagliare cose del genere mi secondo me indipendente da Microsoft Sony compiace qualcosa c'è un lavoro incredibile sicuramente però la cosa che a me non piace non mi sta piacendo tanto di di Sony è che stanno puntando sul facile ossia tantissime remaster ed infatti ho battuto a tutto Sony generazione remaster ed però cioè colpisce al cuore i vecchi giocatori fai rientrare un po' i nuovi però boh non lo so piaci di diventare a rosticini ciao Luke pronti ad abbassare le vele ah diciamo le 9 si si può dire anche le 9 scusate il ritardo eccomi ciao via ciao via o a bloccare io mi riparo con le vele è questa qui che abbiamo al lato? si o quella che abbiamo questa sulla destra è bellissimo proprio al tramonto così fra l'altro ah beh si francesco lombaro si è scritto ciao francesco grande franci ciao manuel ciao manuel ok quando vuoi dammi un'indicazione per l'ancora ok al ci si riesca a guida ancora quindi mi avvicinerei a questa spiaggetta e passi a bordo da qui si direi la spiaggetta è ottima per me potete anche buttare no presto 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 momento di silenzio vira un attimo a sinistra c'è che come vira o di nuovo a destra ah viri te ok ho capito vira ho detto cavolo ma c'è di te no c'è c'è ok ok c'è ok c'è qui ok perfetto ok vai ora ok allora signori vediamo un attimo l'isola com'è allora nord vediamo un attimo dove è il nord quindi il nord è di qua per ora non abbiamo ancora indicazioni finchè non si va sul posto quindi la spiaggetta dovrebbe essere questa forse ma vedete già la mappa voi c'è abbiamo la mappa all'inventario no crescent island questa è la prima è l'indovinello ok presso il passaggio stretto e roccioso a sud est che conduce alla caverna la speranza si riduce scopri dov'è e poi c'è la luce passaggio stretto e roccioso a sud est quindi immagino sia questo qui vediamo un po' no no qui a sud ovest e vabbè secondo me è questo qui dai allora addio già appunto dal serpente può essere questa passaggio stretto si secondo me è questo allora trova la luce ma che dice no bisogna portare la lanterna allora che conduce la caverna speranza si riduce scopri dov'è poi accendi la luce quindi tipo ora si è attivato qualcosa no no siete su noi siamo su vi vedo siamo ok ehm dan trek la mappa è impermeabile laggaret vi vado a console ripetere console cosplay ho scritto lucky ora c'è un remake il remaster spacciando per il santo graal esatto allora forse non è questo perché è un passaggio stretto e roccione ci sarà questo vediamo un po' è in alto o non qua mario leotta mi scrive è in alto dice ah ok ci spoilerano quindi proviamo a salire ciao andrea benissimo andrea va benissimo io qui non vedo nulla in alto passaggio stretto e roccioso qui c'è un barrile di buono mi sono impegnato a leggere articoli dei vip per una presentazione che devo venire di stare a sentire quella rilassata mi fa piacere Luke mi fa piacere dai mi conduce alla caverna sud est sud est è dietro di noi è di qua allora sud est giù ma io sento rumore di bestie ok sud est di qua si va verso la punta qui c'è un barrile che da verso l'avamposto che si vede illuminato ci dovrebbe essere un passaggio questa cosa mi sta disorientando da illuminare che cosa c'è c'è un maiale sospeso eh siamo anch'io siamo anch'io qua praticamente il passaggio stretto di roccia vediamo se si è aperto non so se può stare ma è veramente bisogno di qualcuno ma Elia vai vai non farti meno problema vai e corri che conduce alla caverna mi sto sospendendo lo solo robo ok stiamo tipo vagando a caso mi sa allora sud est è questo non c'è dubbi però forse siamo troppo a sud est ah si sud est è la mia spalla quindi il passaggio a sud est che dà verso la caverna io riuscendo giù sull'isola riuscendo giù anche io sulla spiaggia allora allora e la madonna ok non mi andava qui sud est è qua infatti e sud est è proprio qua bisogna alzare la guccia ah forse è questo qua forse è questo qua accendiamo ah si sai oh e allora mi sei impallato bisogna alzarla ok e tecnicamente se tutto va bene ci dovrebbe dare ancora informazioni sulla mappa niente per adesso andiamo un po' ecco wow cosa è successo è un terremoto qui da me ho alzato la luce si vede nel punto giusto oh alla palla che non vede il sole allora ha detto qualcosa ah alla palma che non vede il sole e la luce arriva solo di rado alla palma che non vede il sole e la luce arriva solo di rado compi se passi est nord est poi scava di buon grado la palma che non vede la luce deve essere una palma qui sotto quindi dove può essere non riesco a prendere la torcia ok dove è la palma che non vede la luce vediamo un po' se c'è una palmetta queste però sono tutte con la luce io continuo a riguardare qui nella caverna ma l'ho trovato se la potete rosa la sedia orisa versione archivi anch'io l'ho trovata l'ho trovata anch'io niente qui alfonso tanta roba ho la casa del terra l'ho trovato al grande ma forse non è qua allora la palma che non vede la luce per ora la demo di trovi come human ospedative bassissime addirittura ecco là l'ho trovata dice nord dove dove è tutta dall'altra parte della caverna quindi dovete rifare anche il pontino di legno che avete fatto l'inverse allora dice se passi a est nord est prendiamo la cosa se passi a est eccolo est est nord est dai ci faccio luce 1 2 3 4 5 6 comunque i passi gli fai bene quella bussola sentite una bussola ultima ti avevo la bussola eccola il bussola è perfetto ecco lì il forziere del capitano fra l'altro vedo un cazzo no non si vede assolutamente niente calmi ragazzi perché sono tutti nervosi e stasera volano bass via ok bene così sembrerebbe buona questa no quella del capitano eh andiamone direi di si ma avete visto quanto valgono tipo le 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 galline d'oro che valgono tripudio vai 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 dove sto libero ah ok bene mi sembra si esca di qua ecco allora uno di tre ce l'abbiamo mi hanno aggiunto qualcosa quel qualche DLC a maggio a maggio arriva roba nuova eh sì se stai parlando dico di Sea of T ovviamente la one x è potente ma che serve senza giochi nuovi giochi nuovi senza i giochi ci sono i giochi ci sono in realtà su one x da giocare ciao regio ciao regio simone paradiso però ho pregato bisogno di grafico no ti ringrazio grazie però me l'ho chiesta abbiamo uno scrigno madama adorè quindi ora siamo potenziali eh capito vero dove ritenete capitano vero si tiene qua mettiamo qui come preferite no mario non credo non credo uscirà perché s4 sia otis eh no penso proprio di no quindi ora sono queste due dietro le isole ma pensi mai quello che si è potuto essere il nome sky online con degli amici e sparare lo spazio si infatti è una delle critiche che gli ho sempre mosso il nome sky è stata questa ok oh venga dovevano con l'ancora no siamo già in due ero quasi tentato a suonare in faccia mentre giravano l'ancora ah si fantastico e noi ti sparavamo col cannone che dolore ieri mi è esploso il piede al mare facendoli per la moglie prendiamo la secca forse io andrei tutto a sud farei prima che tutto a sud abbiamo preso la secca aiuto non ho travi non ho travi fra l'altro vado io oh è già pieno ok calmati calmati c'è solo uno di colpo? ma qua in fondo ce n'è uno poi direi che basta si vabbè la nave è più vissuta c'era anche solo una secchiata d'acqua la presa te venone ok allora dove stiamo andando? posto ci sono ci sono ma di nuove pinate per 1x non ne ho viste per ora no ma quello è vero quello è ragione quello è ragione su quello è veramente ragione lucky andiamo a quella a sud e poi ti facciamo camminare su un asse magari con un kraken sotto tutto sud allei andrei e ci sono due isole una è in direzione così o se no a questi punti facciamo una sosta alla van post in direzione è quella e si poggia meno la cassa del teo anche quella del capitano tanto la van post la van post ce l'avevamo dritto se vai dritto che la direzione è giusta trovi la van post ti gonfi un po' le vele se ti danno noi aperte dimmelo eh no no credo sia la van post la logica si è da lontano non mi sembra da qua però la direzione che dava ci dice noi siamo partiti da lì no dice che siamo partiti da qua se la va un po' se la va un po' che si fa si fa la sosta per posare due cose ok ma visto che siamo già qui direi approfittiamo altrimenti l'avremmo tenuto ok ma è questo qui? è questo qua che non sembra neanche che andava in posto però è questo qui sto andando un po' a rotta di collo ma si può anche fare una frenata brusca cosa? ma vai fai quella pure va meravigliosa ok uno è qui l'altro qua ok al vedo c'è una cosa che mi piace qui nella stia ho visto il barile di polvere la spara l'hai già trovato al? si si cioè ma è una macchina roba noi potremmo fare praticamente talk show noi siamo le vallette di al noi siamo talk show anche l'altra volta ti ricordi? lui guidava menava picchiava e trovava si laki guarda la cosa di scalebound però è stata veramente un colpo al cuore quello che è cioè è stata veramente una vera e proprio barzelletta con le scalebound è stata una presa per il culo pazzesca buono 970 è il capitene è il capitene e 413 di te sarà un po' di più il te però buono buono c'ho un palancro c'ho un palancro so soldi so soldi il cadrario non l'avevo mai trovato grande Arashi grande ci siamo? ci siamo? ok ci siamo quindi direzione tutta dritta praticamente no aspetta perché ora non aveva virato quindi esattamente all'opposo come siamo ora direzione sud-est vai allora avviatevi faccio mi son dimenticato ok sud-est vedete qua sud-est avviatevi pure mi son buttato a mare io 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 vai ma vai tranquillo vi ribecco con la sirena ricarico assi banane mi son dimenticato la vedo però tranquillo andarsene a nuoto si a mutinamento proprio di quelli potenti mi sto riprendendo in poche parole mi sono innamorato di questa tipa qui del porto che è al suo perché dai smartella col martellone donna rude ti sto riprendendo leo mi sei sparito dalla visuale ok perfetto se ti se giri tutto per andare a sud-est siamo in direzione perfetta allora andiamo di girare anche le vele tutte questa magari la giriamo bene ma fa fini ma da lì come abbanno non va acquistato per principio neanche a 10 euro è stato più grave non è stata una scordezza di consumatori sicuramente il problema è stato di nome sky il troppo hype e quindi la troppa fretta che si è generata nella produzione del gioco è stato fatto uscire troppo presto e il tempo ci ha dato ragione perché nome sky ora effettivamente vale l'acquisto secondo me io infatti l'ho preso recentemente c'era in sconto su steam ma hai fatto fatto di molto bene ora secondo me vale veramente l'acquisto nome sky ma all'inizio effettivamente no all'inizio era un delirio vado a mettere a nanna al pupo e poi torno se non fa tale ciao lucky eccomi a bordo comodo sto tritone ok dovrebbe essere questa l'isola quindi direi intanto di io alzerei un attimino una veletta intanto questa la tiro su per diminuire un po' di velocità oggi di navi neanche una meno male va stai buono che poi tocca a noi dove è cosa delle banane qui no quella non è la nave ok io andrei con il derapone qua per me il derapone ci sta veramente bene qui da fare fatemi sapere poi dopo si torna indietro quindi io starei con le vele così non le abbasserei segnale per l'ancora ci sono ci sono i cannoni degli scheletri mi voglio buttare subito per andare ora io vado a vedere giù io mi butto subito da prendere lo scheletro il cannone ma il mare è cambiato colore o sbaglio dipende dalla zona credo che dipenda molto dalla zona in realtà che abbiamo visto anche con al ci sono alcune zone dove il mare è proprio cristallissimo con un sacco di roba sotto quindi si si ma comunque l'ho notato anch'io che è più chiaro secondo me dipende tanto dalla zona dalle condizioni meteo quindi siamo sull'isola ok le rovini in piedra sulla spiaggia su ci impone la musica di suonare non è che ci sto andando io non è che vedo solo F per usarlo e non per svuotarlo stai puntando sulla punta che cacchio è lo scheletro vabbè bello in nuoto andare in famone qui non c'è la cosa non c'è l'indovinello si c'è l'indovinello qua oh ok oh oh sento gente ah tutti gli scheletrini ok fuori uno che cacchio ho trovato qua oddio ho trovato una cosa bellissima a parte la morte tra un po' dove sei? e dove c'erano prima le skytrack a nord aspetta un attimo facessi gli trucchetti guarda ah beh sì ma che bello ma che bello a parte che non lo fio sulla zona con le rovine che mi dice lui che sono a nord però hai provato a suonare lo stesso no però non me l'ho fatta devi metterci più di là là tanto che te la tirano dietro quando ti passi esatto ho capito cosa ti riferisce quello che farà anche da sopra la nonna comunque ho trovato un barriere polvere da sparo forse lo sopra che magari ci serve sì voglio vedere qui cos'è che c'è se c'è dell'altra comunque credo che sta proprio pieno di rovine quest'isola qua perché l'ho trovata una scheletrini bello come roba dice ah gli scheletrini come se l'avesse trovato i gattini credo sia quelli là in cima per sé le rovine scheletrini seccati dici sulla spiaggia io lascio un attimo la polvere da sparo la lascio sulla spiaggia ancora non ho porto sulla nave le rovine impiede sulla spiaggia a sud a sud allora un attimo la spiaggia sulle rovine ah quindi la spiaggia a sud deve essere dall'altro lato la serpente non mi spiega ok beta beta gattina scheletrini è un colpo di rumbo eh allora smicati lupe di mare le rovine in pietra sulla spiaggia a sud ci impone la musica da suonare le rovine in pietra dalla spiaggia a sud dopodiché bisogna suonare le rovine in pietra allora a sud io sono nella spiaggia a sud per me sono quelli in alto no sono qui non ti vedo Ald sono sulla spiaggia a sud ma io sono a sud su una spiaggia ma ahi mi sono fatto malissimo mi sono gettato dalla scogliere io sono povero non riesco a stare tra i tuoi consopri rischio a piussare i migliori dietri perché ho seguito ma infatti perfetto è giusto così e ora dice trova la misera tomba del serpente ammutinato a sud est se ricordo bene compi se vabbè la serpente ammutinato ok vi vedo vi vedo sta arrivando a nuoto eccolo sud est e da questa parte la tomba del cosa ammutinato dove sarà è qui mi sa arrivo 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 ti sono dietro chissà se questa cosa hai trovato c'è un altro tesco mitico vedete un tesco di venga ci può stare tomba del com'è che dire non ho nemmeno letto allora io la porto alla barca a parte no cerca lui la tomba del serpente ammutinato qual è ora a sud est sei l'unico che può prendere la bustola sud est ma sud est la cosa è qua però non mi sembra di vedere segni che ci indichino che è la tomba di una di un serpente addio può stare qua dietro ok mi sono fregato comunque la rail potrebbe metterci una piccola citazione che è nascosta a Sir Daniel con tutti gli scheletri in effetti ma questo scogliettino qua è caduto nella scogliera no eh sud est sud est cavolo ma è qua a sud est ci sono delle banane fra l'altro che raccoglierò una tomba del serpente in generale che aspetto ok non so cosa state parlando voi a sud est però non dice sulla spiaggia eh infatti magari è sopra magari è sopra è vero è verissimo dovrebbe essere tipo un qualche serpente insomma tampato oppure una citazione a Donkey Kong ma potrebbe essere le banane comunque per chi è interessato a producere gli eventi futuri ok ah ok Checco ha linkato l'articolo di Nerd Dream ah grazie Checco bravo e poi pare si irdegna la colpa di balessa secco a tutta la ciurma di roba sud est abbiamo detto quindi sud est si io sono venuto a vedere quassù aspetta fammi posare un attimo qui c'è un un pozzo cosa c'è da fare davanti alla tomba ah c'è da muoversi eh c'è da andare lì dovrebbe sparare sì dovrebbe esserci proprio un luogo dove qui c'è galline galline ah io eh mi sa che da queste parti perché stanno poppando fuori gli scheletri escono gli scheletri difendono le banane sono importanti eh beh certo allora peraltro sono nella parte alta ecco sì anche Alfonso andiamo un po' qui galline no io qui non vedo una cifra però a sud est c'è veramente questa zona qui in realtà la mia cosa che vedo a sud est è quest'area qui io e si dà in tanti sull'estero solti di braccio boomerang ma no la vediamo un po' Nikos è appena passato davanti al serpente no ma c'era un serpente ma non non giocare la tomba com'è che la definisce? ma è gli scheletri vengono fuori gli scheletri quindi tomba di serpente ammutinato misera tomba di serpente ammutinato ora io rischio di perdere lo scheletro in mezzo aiaia eppure su destra è qua è qua è Luca fuori di perdi con lo scolo voglio un attimo riscendere lungo qua qui c'è un serpente dorato che mi ha colpito ovviamente perché non mi faccio mancare nulla ah beh uh secondo me eccola secondo me è questa secondo me è questa qui è che sono tutto impantanato male quindi non vedo un Kaiser ecco la cosa brutta ma magari sono new boy io se no non mi chiamerei vecchio nubo è che non saprei come trovarti sulla maffa le passi al sud ovest quindi uno due tre quattro cinque sei vediamo se fosse questa e però almeno mi fa la manga ovviamente non trovo nulla non c'è nulla ah dici che vedi una nave si è una snuff ok io intanto vado sulla nostra già che ci sono perché tanto ho perso dov'era allora forse non era qua ah forse è quest'altra c'ho due tombe qui davanti preparo la dinamite la metti in punta d'albero no la metto a portata di mano e poi sti a sud ovest uno due tre quattro c'è maledetto ma forse non è questo allora perché non so tornando nulla ci hanno abbordato chi è che mi ha sparato io allo squadro ah ok provo che lavoro fai? lavoro in una ditta di ingegnere ambientale no c'è una tomba no ma io stavo proprio per me con un uomo morto accanto oh forse è questa eccola la tomba oh c'era infatti il serpente ci ha stampato sopra ok quindi su dove? sei passi uno due tre quattro cinque sei più o meno dovrebbe essere tornato più o meno ha fatto un ruttino ma perché ha mangiato troppe banane non volevo in pubblico così ha fatto tutto lui oh eccolo qua uh sta uscendo il mondo qua sta uscendo il mondo ragazzi aiuto eh me lo immaginavo aspetta no no tranquilli tranquilli sono tre scheletri quindi mi sembravano di più non c'è scappa lo sloop si appena spesso le luci roba ricordati solo che faccio scrivo quei colori ma figurati però come torna caspita non lo vedo sai era vicino all'avamposto si è scomparso e roba la trova grande teniamo conto anche della tempesta giù per me ho sentito le luci perché sono presi paura forse forse è il navigatore vabbè ora però non vedo la barca non so dove cacchio da dove sono passato quindi noi siamo all'alto nord-ovest a regola mi dice cosa li vedo temerari buonasera buonasera ma è un galeone quello mi sembra che mi stia muovendo ok vedo ok li vedo dove sta arrivando eh c'era anche la polvere da sparo sulla spiaggia di davanti alla nave non so se avete vista già preso ok grande io arrivo quando si arriva a quest'ora della notte non si vede più niente mi sa che tra un po' succederà una serie da captain look così di notte arriva eh con molta calma io molta calma io non avevo l'arrizzone terminator buonasera buonasera c'è una buona vista che peraltro mi ricordo che guardando la live dove avete giocato con addio con dado box con dado che lui non vedeva il relitto no eh no perché è una questione di distanza di rendering secondo me quindi dov'è che vedete le cose strane? ma lui lui vede forse allora una è sparita l'altra sud ovest ciao via buonanotte però non so sicuro che quella sia la sud ovest che ha una sud ovest vediamo subito sud ovest eh sai che non capisco no non credo non credo comunque mi sa che è una che c'è un'isola accanto quindi secondo me sono di quelle sai delle piattaforme secondo me ma non dobbiamo andare là a sud ovest eh noi dobbiamo andare ti dico subito allora questa l'abbiamo fatta qui questo è il gioco di Bruce Willis apocalipse ragazzo quanto era figo apocalipse esatto noi praticamente bisogna andare tutta ovest leggermente a sud tutta ovest eh sì diciamo in direzione come siamo messi ora a dritto come siamo ora quindi va bene a dritto come siamo ora questo lo leverei e rimetterei il segnale all'avvento ah per un attimo ok sentite bene voi ragazzi col microfono? io sì ah forse è già passato il microfono allora io ragazzi ero anche portati in line nei primi line in cui compariva anche io sì con 20.000 crash quindi avrete così eh vediamo un po' vediamo un po' ah vabbè ma c'è Millo che fa ride da noi ma grazie amici di Nerdream abbiamo parlato di voi abbiamo linkato l'articolo di Millo su sulla su le nuove i nuovi DLC gratuiti di Sea of Thieves quindi grazie per il ride spero sia andata bene la serata con The Witcher mi dispiace della contemporaneità e vi presento RoboJoker che è qui con me anzi sono io da lui comunque all'inutile che fai il sondaggio all'inizio oh ma sento colpi no no è la spiaggia la spiaggia ok è l'isola ecco Valerio o anzi Millo credo che sia lui uuuh attenzione questa è piazzata bene no no ragazzi forse si vada vedere vada vedere vada vedere comunque fa non dovrebbero averci preso a logica direi di no fa curriculum comunque ok abbiamo solo un buco insomma c'è fa molto freddo dove su destra non lo vedo che poi Millo non noi ci mancherebbe un quarto volendo se tu non avessi da staccare giustamente comunque se su destra non è nella sua direzione mi guardi la mappa se va bene la direzione si la mappa qui ieri non l'ho visto la lì perchè Dark Souls devo giocare si leggermente a destra e ci sei un po' a destra ma è quella quella lì sì è quella allora vediamo un po' come fare ma tranquillo tanto poi dobbiamo girarci quindi vai a vedere The Avengers io? eh no ho chiesto a ok scusami scusami a Silent Gamer che aveva che ha finito ora con Nerd Dream che anche lui ha il gioco se voleva fare il quarto ma giustamente penso vado a vedere The Avengers comunque ho notato che in chat molti si sono espressi riguardo i miei sondaggi uno solo ebbè non lo so è sempre un risultato intanto consegniamo le cose poi evidentemente pensiamo a fare un po' di più tutte le cose da che serve su questo gioco c'è la possibilità di farci una barba al cosplay ai tentacoli di Davy Jones no però una barba un po' tentacolosa c'è tipo buon film buon film grande un abbraccio millo allora io comincio ad alzare un po' le vele si grazie te lo stavo per dire anche perchè qui è bella puntita e rocciosa non vorrei farci lo stampo buttate l'ancra veloci come l'ancra aiuto ah te le cose qua dici comunque Lucio il raid non è ancora disponibile quindi no ciao un abbraccio a Carla Ranini benvenute 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 l'unico film che aspetta che non è per te no grazie ok tanto che voi siete qui io faccio un po' a cavoli meri rispondo un messaggio faccio vabbè è giusto è giustificato io direi dell'inchiubro in cella si si appena si sono su si vota poi beviamo grog al nastro e li vomitiamo tutto dentro la cella che non può pulire c'è la pena massima ora ci lasciamo a qui lui prima della nave se ne va ciao ragazzi è stato bello grazie Milo buon proseguimento a te ok ci sono voglio controllare se arrivasse qualcuno non so insaputa però no direi che posso arrivare anche io ho sentito un colpo spero sia il temporale o forse mi sono tuffato con un assorzante suono non ci sono mangiare un canone serio? no forse sono tuoni della abbiamo sopra la testa sta arrivando un po' dopo hai lo scuolo dietro oh dove? non mi farà niente lo scuolo ne siamo sicuri? sento un'esigenza enorme no mi pare che? comunque non mi sta cagando lo scuolo cioè lo sto sparando io sento spari ma ah c'è tu ma va ok lo scuolo non c'è un problema comunque non mi stava cagando lo scuolo sai cioè li stavo sparando ma si è fatto uccidere che si fa si va a nuoto o a questo punto si approccia con un canale io ho vicine l'ereganale troppo lontano ma non c'è nulla di che è visto dentro quindi non c'è nulla ciao albertone buonasera benvenuto benvenutessimo oh grande alberto mi fareste una reaction alla fanarty live dopo la quarta allora si dopo la quarta allora si si volentierissimo no no tranquilli tirate su l'ancra io non ho cantato già arrivato ho fatto tutto io mi è venuta l'ernia no no ma ci sono andrò all'imps andrò all'imps a farmi valere allora girare tutto girare tutto no no eh no eh vabbè mi caga solo se hai un po' di vita tolta esatto esatto ma c'è il mitico Rob certo qui si fa si gioca multipiattaforma e si streama multipiattaforma cioè non so alberto poi di più che volete c'è la polenta anzi fra un pochino si fa la spaghettata di mezzanotte eh tra un po' una mezz'oretta no sì comunque quest'acqua così celestina mi ricorda un po' gli sversamenti di soda della solvedda alle mie parti è vero vorrei dire ma dlc rosignano più che maldive qui mi sembra che ci si sta prendendo qualcosa qualcosa allora io mi piazzo subito alla all'ancora sì ma abbiamo tutte le vele tirate su scusate ragazzi come si può pritene andare avanti girare ma io sono perfetto infatti lo capisco davanti ma non andare a cantare spiaggettina qua all'isola ah no è da prendere i bambini che paura le cose ne sono ma cosa il relitto i barili ma abbiamo preso le cose nei barili no ah sì ho preso tutto quello che c'è da prendere poi non so ok pronto oh cazzo ci sono ci sparano gli stronzoni stavolta ci hanno preso ancora 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 scusami e qualcuno si spari si spari verso qui verso qui di là allora io non riesco più a svuotare i cannoni non so perché aiutatemi vedo solo usa usa la spada forse l'ho preso no mi lancio mi lancio io allora no ho sbagliato mira ahia vado a riparare perché qui stavolta ci ha preso sicuro maldito gringo maldito gringo no siamo immortali sostanzialmente sta barca non la filano mai io sono sentito umore di ci sono comunque ok ok ucciso l'hanno preso l'hanno preso e ci hanno fatto tutta un regalino alla fiancata è andato ecco ok fatto fuori alberto fa arti marziali per cui vi consiglio tutti di trattarlo con dovuto rispetto allora quindi ah qui c'è da scavare sì dunque qui ce n'è tre quanti ce n'è bene eccomi allora il nord è qua bene così allora quindi uno dovrebbe essere là ritirato a tattica esatto continua a tirarlo su te vai allora un forziere dovrebbe essere cui madonna il temporale ragazzi ora sarà un casino tornare indietro no eccolo qua è la parte più avventurosa la parte più bella e però sta arrivando il mondo dove e allora perché non ci danno una mappa una mappina dove vedere orca loca in live l'hanno visto ma hanno tipo colpito questi scheletri e sono tipo volato metri di distanza eca ti ha preso proprio col fucilone a pompa quelli ma non so che ci siamo colpiti in realtà abbiamo pure il bennache io non sono una pippa io sono un mangiatore di banane simo ok però sto all'ancora faccio cose così modeste da mozzo e se no mi chiamavo vecchio ne ho poi c'è un po' da lui c'è appena posto per mantenere i filetti che vi raggiunghi in questo mare di ladri manca l'ultimo ok l'ultimo che è tutto a est la parte est dell'isola l'ultimo che è il primo ma basta oh c'è gente oh aiuto 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 eh se sta cominciando a piovere non si becca proprio la cosa si becca in pieno la la tormenta ok arrivo con l'altro forziere sono arrivate due due ondate di scherete per un forziere del naufrago per dire si infatti ok manca ancora uno quindi si se non ho calcolato male dovrebbe essere proprio che si chiede agli un cut eh oh al primo eh si c'è la tua pala si quel vannucci chi deve rego diciamo o c'è il vannucci ah saluta almeno grande rego per me devo mettere anche la marina ai tagli esatto se ne era parato forse contiene i commenti se mettessero come fazione NPC la marina e in base a determinate missioni aumenti la tua taglia da pirata sarebbe una figata eh beh comunque mettono un po' di cose peraltro è carina anche l'idea di fare missioni settimanali questo è simpatico allora ragazzi ho coperto i teschi con il forziere del naufrago ecco sì ok ho proprio messo sopra sta diventando buio piove ti vedo che stai scavando c'è ragazzi guardateale che intenta scavare guardatelo chi è che sta facendo chi è che fa i segnali di di luce stai riguardando eh sì sto parlando col cannocchiale quindi per quello la banana è l'arma più pericolosa ma che questo è pesante è un forziere della morte è un credo del naufraga anche questo ma che vediamo ha fatto tutto direi di sì torniamo all'avamposto eh ci abbiamo da scaricare un po' di roba no forzare del navigatore nord est direzione nord est ragazzi ora pronti quell'asse di legno perché ci sarà tanto da riparare ma signora ma lei mi sfregia la barca c'ho ancora il leasing due buchi due buchi lei ha uno davanti a me voglia peraltro parecchio ecco vado vado ce n'è un altro anche di aro tre buchi in un chial ok addio ci stiamo impennando forza svuotare cioè stiamo camminando sott'acqua praticamente ok ho preso un pezzo di fighi a direzione d'acqua eeeh aspetta stiamo imparcando acqua ora ti naviga a caso perché abbiamo messo un po' del meglio ora ci rimettiamo al posto allora ti dico al volo direzione vai va bene così la vedi la bussola si non è pazza ok vai un po' più verso un filinissimo verso est proprio un filinissimo svuota svuota la direzione precisa precisa ah ma ci si è palo ok lì la va un po' si è cerchiata aspetta un filettino verso est un po' a destra un po' a destra un po' a destra usare termini da marinare sarebbe bello mettere ogni tanto un galeone pieno di tesori da contendersi tra giocatori beh c'è raid c'è raid eccolo lì c'è raid no 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 dicevo a nico no 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 non attivo raid diceva a nico che diceva sarebbe bello mettere ogni tanto un galeone pieno di tesori da contendersi tra giocatori comunque ci sarà un galeone fantasma non ho ancora ben capito non è stato detto in realtà si è capito qualcosa dei messaggi che hanno lasciato però mh guarda che figata non si capisce se ci sarà un galeone fantasma guidato dagli NPC o se uno dei sei equipaggi che normalmente si trovano in ogni stanza sarà maledetto fra virgolette quindi nasce con con la taglia sulla testa ti vedo solo ora buonasera robo grande senza i robo rimorchio per te ha una mente contorta abbastanza quattro secchi riesce a svuotare l'intera stival great logic no ragazzi comunque è una musica di cattivo auspicio questa eh eh lo so è quella triste è quella che attira il kraken è quella che fa fondare la nave ma so io non sento la vostra musica eh ma perché te sei buggato te sei sotto proviamo a vedere se ti scherisco te lo dico io affidati me ti libero le orecchie aspetta che punta le orecchie io proporrei la re di di mettere il guanco vai suona vediamo sta suonando tra l'altro ora che ti ho sparato mi hai avuto in mente una cosa che devo ricaricare le armi niente eh non sento solo fischiare incredibile gli ho sturato le orecchie con il fucile a pompa niente da fare però il fuoco amico non c'è quindi pensavo di sì all'inizio ma fortunatamente vado al timone anche se c'è poco da stare al timone perché non si vede una città facciamo il manovrone alzatemi la vila centrale vado io vado io vado io eccomi eccomi no no vado bene faccio faccio io ma quanto la mia mente vedo robo beh ragazzi ve la contendete il titolo eh ok perfetto così ok allora io vado all'ancora barcollo però quindi avvertitemi addio ah avete già visto bravi no no è un attimo ho avuto un attimo di è venuta sete bevete e non aspettate non capisco perché mi si sono baggati i cannoni non riesco a vabbè allora ah aspetta ma questo che lato è del po' ah no vabbè è lato sbagliato si vabbè ci accontentiamo di questo lato e anche perché girare questa vai allora ancora vai no no aspetta aspetta la sto salvando vai 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 bene così allora andiamo no ho diventato il pirata col pappagali praticare la giurma del pirata tegolino però comunque chiede alberto se ci sei l'unicorno a luglio io spererei di esserci spererei davvero di esserci anche di qua si stanno organizzando alberto e lucio per andare non so dove alla fiera dell'unicorno che dovrebbe essere dov'era a calci forse no 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 non a calci perché ho detto calci non lo so a vagli a vagli anche perché non 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 suona bene no ti porto alla fiera a calci no ma chiedimelo a modino no no ti porto a caccia la fiera no che non va bene non sono bene nemmeno quell'altra eh minchia che siamo lontanissimi ti porto a vagli di sotto ma siamo sicuri che è qui la sta io ti sto seguendo leo ma siamo sicuri qui no non sono sicuro stavo cercando un qualsiasi negozio mi siamo sperduti ma infatti era di la ma porca l'arbo gioca per venti di battizzare la tua nave con il nome di tegolin carletta tegolin carletta mi garba sono in tutte le live robo almeno mi giostro tutto per bene ah ok ok grande grande lucio bravo così mi sono incastrato po' per questo altro minore il tesorico no qui ci deve essere per forza la tenda tutto il numero di tesori scusa e qui davanti in mezzo alle tende le case normalmente e poi mangiare un panace scusate se sanno l'ultimo spot in Giappone e poi mi scusa a modo posto apocalittico e la gente puzzerà davvero tanto eh eccoci allora 1 non eravamo nemmeno tanto lontani con la barca è la verità se questo non arriva praticamente niente il mio l'ha venduto l'obiettivo sbloccato ok ok ma di che tempo mamma mia il tempo da lupi non poter fare un raid ora è il raid non si può fare sempre deve attivarsi il raid credito di un po' di pvp eh aspetta portiamo le cose tranquillo tranquillo poi lo facciamo eh una deficiente sbloccata rango 1 cacciatore dell'oro del navigatore eh allora un teschi ti avete presi tutti eh sì c'è un forziere ah no qua ce n'è uno ancora qua è di di teschi era quello che avevo nascosto io col forziere Samuele sono tornato dopo un cassino aspetta di carmi certo Samuele ma anzi ben 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 trovato ben trovato mi fa piacere rileggerti mare tempo da lupi di mare esattamente se toccate la polvere giuro che vi taglio un'altra gamba ah no 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 la polvere l'ho lasciata perchè so che ti che ti sgomenti se non ce l'hai è strano che usava un posto come distribuzione delle cose si è proprio strano si poi con questo buio non ci si vede niente io oltretutto per riuscire oltretutto inutilmente a farmi vedere in in su twitch perchè sarebbe quasi meglio non vedessero c'ho queste luci sparate per cui il buio del gioco si acquisce 99 ma che schifo dov'è non sono neanche definibili spiccioli 45.000 e te ce ne hai 45.000 buon per te al 690 questo teschio va un po' dai ci si può stare dai ci si può stare al sarà già preparando la nave per il pvp ovvio ok qui c'è un altro teschio addio aiuto ahm leo ci sono un po' di cassi di polvere da sparo da vendere si si ne stavo venendo a prendere ok ok ora ci si ora ci spara tutti e due credo che piuttosto all'affonderebbe la nave si si guarda guarda ha sparato eh ha sparato davvero 3 che ha il pavere di cannone che poi quella magari sarebbe quella che ci serviva decisiva ma ho quattro blocchi abbiamo già portato tutto un canale youtube e tre videogiochi ma ci mancherebbe samuele ma gli impegni prima di tutto a che livelli sei Robo scusa se hai già detto ora aspetta eh ora consegno questo alla tipo strana e ti faccio vedere che non mi ricordo nemmeno io fra l'altro quindi abbiamo consegnato tutto mi sembra no? e ancora questo ma 500 lo accettiamo dai come i livelli sono 17 18 cacciatori dell'oro quindi ci ordine delle aline e 11 mercanti i mercanti hanno fatto un cazzo si lucio al ci lascia qui da soli si vanno anch'io ok arrivo attimo ah no niente non importante allora io mangiare una banana giusto per completezza eh il mercante è più lento per tutti eh per me sicuramente fra l'altro ma le luci lasciamo accese? si no le luci spente no no ok ok che dobbiamo andare a cercare le navi avversarie però almeno facciamolo in modo strategico io non andrei dritti perchè e indovinate dove dove dobbiamo passare dai da mezzo alla tempera scusa ma per fare cosa? tocchiamo la mappa attraversiamo tutta la mappa dobbiamo passare lì? e facciamolo allora dai la fiducia nel prossimo in caso di aumentare di livello per avere delle ricompense aggiuntive e missioni più ehm toste diciamo aumenti il livello o il tiro delle missioni che è che aveva messo questo cerchetto qui nel nulla nella mappa? io dove? ah ok perché vuoi andare a cercare? un solo chicco di riso può spostare l'equilibrio della bilancia una sola palla di cannone può fare la differenza tra andare avanti e colare al figo semicite grande Luke bravo Luke diglielo ok vediamo dov'è N10 vuoi andare nuovo N10? e dai ci si potrebbe provare ah c'è una leggenda che narra che ci sono le rovine sommersi le rovine sott'acqua la differenza tra vivere e morire e quindi Al c'ha il pallino di andare a trovare nord-est nord-est? si allora io le rovine una volta le ho viste ma non c'era nulla hanno dei spawn random e delle entrambe ah buono ok magari non vado proprio a nord-est preciso perchè c'era un isoladante a noi non è che un'altra fisa per frame of fantasy 9 è normalissimo normalissimo ok ditemi se così vado dritto contro l'isola ah no devo ancora girare un altro po' fra l'altro ovviamente il ride in light vai è giusto cosi no? verso la tempesta mi continuano a capire a me mi continuano a capire nemmeno io se ti può tranquillizzati eh siamo proprio un vento di prua eh eh la tristezza dell'umidità però c'è un meraviglioso ho sentito oh no è un tuono sicuro che quando si avvicina una tempesta così è un casino distinguere il tuono da uno sparo di cannone poi tu sei diventato la finezza che quando si tengono le vele tutte da un lato la barca tende a piegarsi da quel lato ora sto piegando dall'altro fra l'altro so che c'entra poco ma a te piacciono gli anime Yu-Gi-Oh! e Dragon Ball Dragon Ball tantissimo allora ragazzi faccio una domanda in chat un'idea che ho in mente è quella di mantenere Sea of Thieves come appuntamento non dico fisso ma semi fisso nel senso alternato il giovedino un giovedì sì un giovedì un giovedì sì un giovedì no un giovedì sì un giovedì no come vi pare l'idea e oltretutto il live come lo vedete voi lo streaming? può valere la pena? perchè secondo me è veramente un giocato per i live perchè si chiacchiera quando magari sono delle navigate così lunghe o abbiamo modo di leggere la chat tra di noi si chiacchiera ci si diverte oltretutto se arrivano le novità dovrebbe essere interessante oh esatto andava a un posto questo? ah no ok mi piace mi piace dipende cosa fai nel giovedì? no ora vediamo vabbè Ale che risponde in chat se il mio senso in sé non ci capisce in una mazza perchè devo farlo io farei girare Dark Soul è eccellente l'idea buona sarà grande sembra interessante dire con un raid quando c'è eh sì mi sarebbe anche a me farei un raid ci sta bene ottimo ragazzi il giovedino l'idea serve fare alternare un'idea che ha avuto Manuel che a me è piaciuto un sacco che ha avuto ieri sera ci sono dei bari li lasciamo perdere? sì li lasciamo perdere mi sentite ragazzi? sì 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 no ok ok no perchè c'erano dei bari lì eravamo passato così per chiedervi se è meglio fermarci o meno no niente non dicono nulla ehm mmm Manuel ha chiesto magari fare giovedì visto che ora non c'è nessuna serie in corso fare qualche gioco un po' più l'ho detto di tendenza anche magari da farsi multiplayer e quindi l'idea poteva poteva essere fare il giovedì come serata Overwatch barra Sea of Tears a che punto siamo con la direzione in modo da vedere ehm uh ma stiamo sbagliando rotta ci vuoi andare a est? sì ok ce l'hai te perfetto allora vira tutto per andare verso est sia soprattutto per la parte Overwatch Rob is the new Mitch perchè? ogni tanto tornano i problemi del microfono ah ok eh ma devo comprare guarda ora poi chiusa la live faccio l'ordine me lo compro il nuovo cavo non vedo niente eh mi sa che stiamo andando contro dritto così ma infatti non devi vedere niente stiamo andando su N10 dovrebbero esserci le rovine ah beh le nostre se mi spianto su ok gira leggermente a sinistra ma è questo N10 no 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 ora vai dritto dritto così ok 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 più o meno ci siamo poi eventualmente si correggere la ruota un po' più avanti guarda lo scoglio là adesso si arresto puro oh merde c'è uno scoglio oh oh uno gira tutto gira tutto a sinistra eh sì ho girato ma se non mettete l'ancora no no tranquillo si va ho troppo paura no 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 l'ho presa l'ho presa l'ho presa l'ho presa l'ho presa l'ho presa l'evento difficile di eh lo so lo so lo so lo so è che è difficile il navigatore farlo così se avessi una signoria navigatore originale essi il microfono purtroppo ragazzi non so per chi mi fa sto scherzo che mi sto facendo grande leo ora però dove entriamo qui c'è una roccia a forma di capezzolo se si vede così in tabla stanno vedendo la roccia a forma di capezzolo vero si è vero ricorda il palazzetto de dello sport di livorno che è fatto identicamente così infatti lo chiamano il palapuppa perché ha questa cupola bianca con capezzolone sopra non si capisce perché leo gira tutto a destra entriamo tra i discogli tutto a destra ora vai 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 io ho dato tutta la roccia capezzolone ok ora iniziare a addrizzarti di legger piano piano inizia a addrizzarti inizia a addrizzarti stiamo rischiamo di andare a conto quello scogli di davanti ah sta ancora a destra sta ancora a destra allora adesso 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 ci siamo ci siamo mi raddrizzo ora vai dritto ora perfetto bene così vado verso l'isola di qua vai te però vai dritto ora vado ok allora c'è da andare leggermente a sinistra devi girare ok l'ho chiesto solo perché mi radnichi non so cosa sia ok 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 continuo a girare e inizia a raddrizzarti ora e a dritto dovremo arrivare piano piano ad n10 di al bloccato che non e non a caso c'è un'isola più o meno inizia a un'altra un'altra un poccato al dove sei te sopra l'albero guarda un po' al l'isola non è segnata davvero ciao regio buonanotte no te la gio l'isola questi slot che abbiamo davanti non è segnato sulla mappa interessante sì ma io ancora non vedo navi ciao marco sei soffesa robojoker ma il tuo tempismo è scadente in che senso non abbiamo incontrato una nave una c'è una nave? no no ah ok c'è un relitto la però relitto? buono relitto volere relitto a sud l'elitto volere l'elitto dov'è? relitto a sud questo è vero non c'è nessun altimone oh ragazzi il mare lo vedo brutto vado a sud che? lo vedo brutto il mare lo vedo bruttissimo no dici kraken? no credo sia una nuvola dai ok no ragazzi e ho visto il mare nero? eh anche io dovevo statisticamente prima o poi ci tocca al kraken e ve lo dico perchè io non l'ho mai beccato ci sono sempre stato ascoltando un po' di anime meta grande mi dispiace non tirare sul cuore non so se siamo al lato giusto sì mi sembra di sì 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 deve andare bene come si va veloci ragazzi eh abbiamo presso il vento ok vi dico quando buttare l'ancora è leggermente a destra ancora? se no ci scavano proprio contro diventano il reddito ok il reddito ok il reddito possiamo anche girare un altro po' ok così benissimo secondo me dentro ci troviamo il segreto della vita eterna siamo pronti? siamo pronti? siamo carichi? pronti con l'ancora? stiamo bagnando no questo non voglio non dirlo io direi di andare andare con l'ancora ci si può stare vai vai ma non c'è nessuna l'ancora ah per esempio potrebbe essere utile via bloody death eh si chiama questa navetta simpatica amica dell'uomo e dell'ambiente il reddito è una nave di pisani affondata qui c'è nulla allora qui ci sono banane bananette bananucce crog banane assi di legno si c'è una uno scheletro un teschio scusami ah si è incastrato? c'è un teschio? un teschio si ma non vedo altro francamente non so se di la ok ok dove è uscire? ho visto che c'è? assopra viva io non ho visto niente può essere? ma di sicuro mi arriva alle spalle lo scuolo al uno stop che nonostante tutto nuota e beve no davvero? col grog si fantastico banane molto salate teschi ho preso sento arte sta singhiozzando alle mie spalle oh oh vuoi una mano? oh squadra no ma non fa nulla lascia tro stare non è che li attaccano? ma se siamo full vita non attacca lo squadro di solito la spada comunque è fantastica dov'è lo squadro? ok morto morto c'è un altro morto morto con la spada si ammazzano facilmente riposto robo pensavo mi volevo scusare ma se il colore del mare vale anche in base alla profondità sicuramente vale anche su quello ovviamente certo certo mi scuso con chi ci ha visto uccidere uno squalo in diretta perché noi abbiamo un seguito di animalisti digitali che protestano contro l'uccisione di animali digitali quindi mi scuso nessuno squalo nessuno squalo reale è stato maltrattato nella produzione di questo no ma loro di quelli reali no non ha capito è un gruppo di animalisti digitali degli animali reali non gli ne frega niente ah ok ok difendono solo i diritti degli animali digitali comunque su quell'N10 ci sta arrivando un tempestone non da poco ragazzi non so se state notando si stiamo c'è veramente l'uragano Katrina ci si va? ah no l'N10 c'è l'isola là c'è l'isola là è l'isola alle tue spalle Halle si 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 voglia provare a vedere cosa c'è eh? andiamo facciamo questa scoperta quello che è incredibile è che oggi non si sono visti navi di nessun tipo tranne quella in lontananza prima tu la prima crash di lucio della serata è arrivata è venuta ah scusami no ma tranquilli 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 ti avevo lasciato tutto solo poi mi ti prende l'ernia al disco il mio passaggio è vecchino eh ecco non ho molto ben presente dove stanno le banane in questa cavolo di prima piano guarda uno scuola eccole eccole grazie e bevi ti fa male c'è vecchio lupo di mare mi erano ancora le laie qui è un miracolo che invece che essere ucciso da una spingarda o da una sciavola muore di cirrosi cioè non fa un bel effetto allora quel N10 vorrebbe essere in corrispondenza di questi isolotto secondo me quello che ho capito e andiamo a vedere io sono pronta all'ancora eh benvenuti a tutti anzi ci avevo un nuovo iscritto che saluto e ringrazio eh che era dark empire non me lo ricordo io non vedo quindi dark empire addio come non vedi l'ancora quando neanche io vedo nemmeno io vedo e lui vomita ah vabbè si ho visto sta vomitando ma vergognati ma guarda ma hai vomitato addosso ma allora andate all'ancora ci sono allora metti l'ancora in proviamo il trick in tre due tanti come vomita lui aiuto uno allora aspetta non ancora non ancora non ancora mettila ancora ora 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 ma quanto hai vomitato? non c'è hai bevuto bellissima manovra complimenti ah no ho girato troppo ho toccato vabbè guarda un po' alza questa l'isola ah vabbè no niente dirò a tali in questo momento come si siamo all'isola su L10 eeeh andiamo un po' giù io giù sott'acqua caro mio al ma qui c'è un relittino non vedo un relitto addio non ci si può credere dopo ciò che per me cosa? alfonso parla troppo sono stuccato l'ha detto che è cover si vabbè vabbè dark empire allora nave e se sono fine eterna e le geoliche in eterno si ma poi ti muori praticamente wow c'è un sacco di roba qua sotto però eh si 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 ah eccomi quell'altro che avevo visto ti ricordi? si c'è una grotta c'è c'è una grotta c'è io devo andare per divederci eeeh forse in quanto i giochi nuovi non sono per me ciao ciao samuele dai ci vediamo alla prossima allora ma è regio? no 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 non regio partita la musica bella eh guarda sto in una caverna davvero? io anch'io ma non so scendi più giù dai c'è vinto eccoti 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 io non vi vedo ci sono sono dietro di te però ora muoio wow è vero io non vi vedo eeeh vai a c'è vinto e scendi più giù devi seguire poi un cunicolone oddio vengo la bellezza quel paesaggio sottomarino hai visto? ma guarda quanti sono i capitani che non vadano ai rumorini addio a me mi è andato via tutto ah non sta qui no vabbè no l'otto si è crashato tu ma no ma mi hai riportato sulla nave perché? squalo oh bene ditemi se trova niente se trovate niente vedi io c'ho lo squalo accanto ragazzi la ve lo stanno vedendo ma non mi sta cagando lo squalo oddio che hai trovato? nulla ah non vuoi ma me ne andavo c'è anch'io lì scherzavo mi ha attaccato lo squalo forse che ne scavo vai su cazzo non stavi sull'isola? ok scherzavo mi ha attaccato a besta lo squalo era l'infamone oh come muori che io ho parato così bene a questo punto che facciamo? andiamo a vedere negli altri io volevo vedere una cosa ma vai vai a vedere ma non ho capito dov'è ragazzo vai al reddito scenditi giù vediamo 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 io sono giù nel reddito eh vaffanculo però squalo di merda voi minchiai grazie iron grazie iron per aver fatto questa cavolata di iscriverti perché poi questo è un canale che roba roba tu qua roba ogni tanto è anche blasfemo blasfemo in senso non blasfemo religiosamente parlando blasfemo improponibile è che sono anche senza fiato eh anch'io io intanto l'acqua è nera ma siete voi che sparate? l'acqua è nera l'acqua è nera perché è notte è una tempesta è semplicemente la tempesta la tempesta ok 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 vieni sono dietro c'è un altro che ora io intanto faccio un po' di manutenzione sulla barca eh perché qui ci sei? wow ti è un po' buggato eh questo eh si sta notando ti giuro che è stato il correttore che non ho capito cosa sto morendo sta per venire giù il mondo qui ok urca che figata si però non c'è niente hai visto non è che magari c'è da scavare no vedi qui qui c'è un forza ma qui hai trovato a scavare? no non puoi scavare ci ho provato non va nooo cazzo però ce ne sono altri di questi posti eh se volete e qui se per forza non ha di quelle che dicevite infatti vedi che c'è tipo un forzero aperto poi trovo anche i forzeri chiusi andiamo nelle altre si proviamo se c'è qualcosa del genere vediamo io delle volte ho fatto più più soldi quando vado a fare le missioni del mercante perchè non trovo mai nelle galine nei serpenti nei maiali ma trovo anche un sacco di royale quello si spera però veramente è una figata sta cosa qua è arrivata la notte io qui giusto per correttezza tiro fuori la lampada cioè non può essere casuale una cosa del genere eh tipo basi o stanze del tesoro sottoterra ci sta io mi sono perso minchia aiuto aiuto ma il teschio perfido che ho raccolto io non è quello che che poi fa casino non so se tu? dai che sono tornato dove mi sembra che sono tornato indietro sono un pirla sono tornato indietro vabbè sto morendo sentimila ma con amoooor ok dai venendo voglia di giocarci eh vedi lucio oh 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 forse vedo qualcuno vediamo un po' no credo che sia semplicemente l'isola eh in questa mappa non abbiamo incontrato un'anima ci sono dei giorni in cui non fai vita ma perchè hanno paura di noi posso capirli si più che altro perchè sono tutti in chat e sanno dove siamo e quindi non si fanno trovare esatto bravo dove siete ragazzi? dove siete andati? in questo momento c'ho 996 mila followers che seguono e quindi anche tutti gli stranieri oh ma siete scappati quella nave? chi? si no ma veramente? ma no siamo un po' fermi immobili sono solo io su una nave per altri esattamente che finico fa ok hai preso un tunnel spazio temporale ok prossima volta che stiamo su dove? ok ragazzi non vedo la nave cioè è grave sta cosa c'erano le luci anche le alziamo ecco ti ti vedo dai vedo la tua luce sta andando di la perchè? no no torna indietro ah madonna che stupido l'hai visto o no? si ok si è normale mi diverto un po' con voi come hai detto come hai detto te la scompagnia buona che giocare in conseguenza diventa piacevole esatto si poi se capita la serata pvp è ancora più movimentata e ehm hanno paura della nave che pareva dire tegolino vado a provare detroit ok allora mi ha incontrato sabacu? no no perchè sabacu giocarsi al tips? no penso fosse quello in generale nella vita non ce lo vedo giocare al seo tips arrivo ragazzi devo mangiare banane perchè ma te c'è la luce blu ma che è? eh si è fantastica si si la prendi da quella dei teschi per esempio ma le emissioni puoi prendere puoi comprare questa qui ma è bellina io non l'ho presa perchè pensavo fosse solo una forma fa vedere la luce ma è bellina blu così è famarrissima eh no la voglio immediato è all'anice voglio la luce all'anice voglio la luce all'anice ti posso tipo no killerare e fu così che si sorpassò la mezzanotte hai ragione caro cake esatto lucio vedo che ricordi bene cosa voglia dire il tempo vola ma vedete allora ragazzi quello che ho detto anche nel video no? in un gioco del genere il tempo veramente ti vola non te ne accorgi non te ne accorgi non ho fatto praticamente niente per dire cioè è incredibile cioè quando un gioco riesce a tenerti incollato così come si può dire che non è divertente che è un gioco che non funziona secondo me funziona grande ma te l'avevo raccontato Robo dell'abordaggio gandiano non violento che avevo subito? ehm aspetta gandiano non violento? ah quello che ti avevano ti avevano guidato la nave? no che erano venuti su praticamente io a quel punto ero solo in sloop loro erano un quattro un galeone e invece che ho cominciato a ballare e loro si sono messi a suonare dopodichè uno è tornato indietro sulla sua barca mi ha portato un forziere me l'ha lasciato dicendo scusa per il disturbo non ti volevamo spaventare e poi se ne sono andati via salutando fantastico ce l'ho in uno dei video ma devo ancora andare a prendere il pezzettino e farci la clip perché è troppo bello no che figata tanto sono qui con al fare cose cose strane al tramonto che bello all'alba tutti tutti ma cosa fate eh? non è permesso io robo non mica lo vedo? come non mi vedi? come non vedi robo? sono dietro non ti vedo eh se vai un po' più avanti lo vedi ah ora si ma abbiamo tutti la... stai suonando Lucio? si Lucio io si stai suonando Alfonso ah Alfonso ci stiamo andando esattamente Francesco ma robo e sabaco il tempo volerà anche robo ma Trinitalia arriverà sempre a ritardo è vero Lucio ma si rifai ci diamo quasi anzi se non sbaglio Lucio siamo amici anche su Steam perché prossimamente io farò una sciurma da tre e chiunque di voi voglia venire volentieri buono che ben piakere dal tre e mondo a quattro posso chiedere? no 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 c'è parto con che siamo in tre c'è un'isola davanti visto? ehm giro? ti è elevato grazie tu è questo? bene ok allora mi riappoggio pronti con ancora alda daccelo ok un attimo che fa vedere subitare video sr ciao marco c'è la barca vada che è che c'è il gruppo di galline è tornato marco ciao marco se la rinnova gioca anche lui con noi come in cui si faranno 4 dio non ho capito leo scusami deve rinnovare aspetta di vedere cosa esce ok ok sennò si sarebbe unito con noi già da stasera ancora devo sentire un captain io sono rimasto rinchiuso nel cannone aiutatemi io ho perso al non so dove stavano stavano già nel nel prelitto ma dove sei andata al atto torna su per favore non abbiamo devo capire che si è andata a finire si può essere più nubi di così ok mezza l'isola e non capisco dove bisogna andare allora vediamo un po ci deve essere una perché solo delle rovine di un tempio comunque è quello che avevo visto qui nella nave invece troiai non ce n'è ma che figata perché davvero non ci mettono ciao marco e ragionista ai osvali come rena ciao carissimi mi ci morirò lo so ha trovato qualcosa no torno su a caricare il massimo mi hanno morto due squali due squali mi sta dicendo che ora mi arriveranno da me uno è qui da me anche l'altro è qui da me io non ho caricato la pistola particolarmente garosi sono venute a 300 all'ora stanno palesemente proteggendo qualcosa comunque oltre a marco prossimamente su se ti sei lato mio ci saranno anche marco dall io conosciuto su youtube come ha cambiato nome mille volte non mi ricordo mai momenti di libertà adesso si chiama e luca di vincenzo che ha scaricato sea of thieves ieri o ieri l'altro quindi il presidente di edu più presidenti bene bene ti dovrebbe essere facile eccoli gli squali i vostri squaletti mi stanno puntando a me e io non ho nulla con cui colpirli la spada è la migliore con gli squali aia ecco il cario a quel altro ragazzi morirò sono tre sono tre gli squali ragazzi c'ho tre squali contro io posso anche provare a vedere se ti trovo ma ok uno squalo l'ho ucciso sta arrivando l'altro che infami niente la parata non serve a nulla contro gli squali eh no prova a te a fare una parata ok secondo squalo morto no 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 questo muoio nemmeno buffon con una parata mi ha ucciso l'ultimo non sono riuscito a mangiare vabbè no preparati che quando faccio la carta prepagata eri abbracciato a pagamento ma che scemo ah è vero che noi abbiamo marco che è il lost archaeology che dice quelle sono chiaramente rovine di un tempio di età Pimparlaia sono d'accordo ah l'avevo notato in effetti cioè c'era qualche struttura ero incerto tra Pimparlaia e valli di sotto appunto anche Marco lo portiamo a calci al festival eh stavo bevendo e ho riscato di strozzarmi ah pardon la famosa fontanella dal naso meravigliosa provati ad andare contro uno squad e provare a fermare un morso con una spada eh vabbè ma ci ho provato scusa no vabbè ma insomma ste ruine qualcosa serviranno prima o poi eh servono già servono già servono già? ah beh perché missioni no eh trovi tesori ahio ma basta squali e che caspita boom ragazzi che tuffone che ho fatto bisogna trovare la caverna magari mi ha aiutato eh arrivo ah lo stiamo facendo tutto qua io sono sul tacco anch'io se mi dici dove stai si cerca sistematicamente non devi cercarlo devi trovare la la caverna la caverna ciao amico buonanotte io stavo guardando qui da queste parti non vedo niente ora circonnavicherò là all'isola e vediamo un po' però qui beh eh le rovine sono simili quindi ho qui o da un'altra parte io l'avevo già trovata la caverna e adesso ahio ancora ma no ahio robo che mi lozzo 10-10 mi hanno dato alle spalle mi hanno dato alle spalle curati chiesto checo 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 è quello che in chat legge come il gamertec sono rimorto per colpore uno squadro maledetto ma se mi butto di sotto no non ci si può buttare di sotto dalla nave della morte no peccato ho sentito il rumore del ah forse che mi ha dato il microfono forse fiore di loto che gioco eh si signore della giurea no ma come mai siamo pieni d'acqua pieni d'acqua? no pieni no insomma c'è acqua non vi allarmate vado a vedere ok allora stavo già risalendo per controllare lì però se amici così sono più tranquillo si ma che c'era già alfonso che c'è è incredibile capisci? c'è no io scopro una cosa ma nel frattempo l'avevamo lasciato nelle caverne c'era già alfonso che svuotava vado a morire forse ho trovato le ma come fai? il punto dove andare ma dimmi la verità dai robo alfonso sono tre si sono tre persone ah ok no perché cioè non è che era a cercare la cosa io arrivo c'è l'acqua e c'è già lui che svuota ma come cazzo fa? e vabbè niente ho ucciso lo squalo poi se avevo trovato qualcosa eeeh a dire dove appena è finita? no 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 non è appena è finita di che festival parlavamo? parlavamo del festival dell'unicorno che si dovrebbe svolgere dalle parti di dovrebbe essere valli valli vedo c'ho la gatta che mi sia ma dovrebbe sapere anche Lucio che ne stava parlando lui oh non ho visto Iron Woman che che salutava ciao buona notte a te grazie anche per per esserti iscritta Iron Iron Woman ma gatta passa di là che se no mi distrugge tutti i cavi comunque è la strada del contrario perchè? io sto bevendo il tè freddo e Rob mangia banane si ma vogliamo parlare di questo mondo di Sea of Thieves che si sfama tutto con le banane? i maiali quando li prendi li devi sfamare con le banane esatto cioè potrebbero anche mettere altri cibi con effetti altri cibi con effetti io ho questi punti per quindi un po' di banane a proposito ha più talento di te? mi ami quella gatta ma perchè? sono pronto a gatto avvinci avvinci avvinci? ah ok comunque c'è sempre acqua non capisco se è un bug un glitch grafico perchè? c'è sempre acqua qua ah vabbè se c'è stata la tempesta potrebbe anche essere semplicemente quella ma eh non abbiamo trovato niente te sei ancora a cercare giù? eh faccio un ultimo tentativo mhm io vedo se trovo qualche tesoro su queste isolette qua così tanto che ti vedo però 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 riuscirò a arrivare nell'altra isoletta senza squali del cavolo che rompono col bello fatta ma qui c'è un altro c'è un altro eh vabbè questo però è un riletto il tritone? eh sì il tritone se ti allontani tanto ti appare a prescindere però tigrotte manco l'ombra niente vero tritone anch'io oh oh ah no eh squalo di merda però semplice riflesso guardalo lo stronzone aspetta arrivo vieni qui vieni qua vieni qui vieni qua muore e muore basta vendetta è fatta non è che c'era uno scogliettino lì che mi ha salvato niente non si vede non si vede nessuna caverna misba caverna caverna altri sei ancora alla ricerca? no no io stavo facendo vabbè direi di prendere il tritone comunque qualsiasi due ore che siamo in live è di rive e navi neanche rompe davvero? davvero invece non sei live c'è davvero di tutto poi è un classico neanche un crime non l'hai chiamato attento attento non chiedere che sai che il kraken poi ti esaudisce la vendetta è molto pericolosa non abusarlo ehm ehm comunque credo che ci sia un modo per trovare il kraken in modo più no non c'è un modo è solo casuale? appare l'unica cosa che è quasi certa è che non appaia agli sloop quindi io che gioco quasi sempre sloop o lo vedo perché vi attacca a voi o non lo vedo vabbè anche normale insomma anche perché una sloop contro un kraken già un galeone contro un kraken è veramente improponibile vedi a me stai avendo? no io sono in mare come te però.. ecco vado dal tritone a questo punto si sale più velocemente vada 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 ahè là! attenzione ce l'hai fatta? come no! Ricordi che abbiamo Della polvere da sparo Già Ma non gliela devi nemmeno vendere Gliela devi far saltare Tritone Vai, grazie C'è una secca Davanti a te Quindi se gira a sinistra potresti non prenderla Eh, è troppo tardi Giro a sinistra Vado già giù, ho capito E invece Sto riarrivando Vai dritto Non abbiamo trovato nessun pirata Alfonso che scappa con la nave Ma qui continua l'acqua Cosa abbiamo preso Cosa abbiamo preso C'è uno scogliettino Sì, però c'è il buco qua C'è il buco Sto tampando Mi state spaccando tutta la barca Ve l'ho detto che l'ho ancora in leasing Ok 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 Io Cos'è? C'è questa abbiamo preso qualcosa di enorme O è il kraken? No, no Ah no Allora, prendiamoci per caspita di venti Nella speranza di trovare qualche nave State tappando voi, io svuoto Io tappano C'è altra Ehi, non vedo nulla davanti Davanti c'è una cosa enorme Stiamo andando a scantarci contro una roccia Eh... Ce la fai sinistra No, troppo Ce la fai? Si fa, si fa Di te mi fido Perché ti ho visto fare cose che voi umani Ok, ho appena visto lo scoglio che siamo davanti Quindi non voglio vedere Voglio stare giù E ascoltare, basta Io mi butto semplicemente Mi butto semplicemente C'è passato, sa? Ora però se stai, se ragazzi Prendiamo quello dopo Quindi no Dritto così Allimita in pelina a sinistra È tutto nero qui Non mi piace proprio nulla Aiutatemi La mia mamma La mia mamma mi ha detto di non Non dare confidenza ai kraken che non conosco Uh! Calevone, calevone Calevone, calevone Dove, dove, dove Direzione Nord Nord, praticamente Ammainate le vede su Direzione nord Nord, nord-nord-ovest Direto questa jutretta che c'è qui praticamente Oh, ma devo fare tutto Sì che devi fare tutto te No Ma sicuro? Non è che è il coso dell'isola Ok, lo vedo, lo vedo No, no, quello è un galeone Subito Eh, ora ci agiamo a nord-ovest rapidamente Uso l'isola come rampa Un attimo Ma forse sta andando all'avamposto Eh, no, si affonda Eh, sì, eh Al, gira tutto, gira tutto Sì, eh Azione Allora, scherzata Chi vuole guidare? Chi vuole guidare? Chi vuole stare ai camoni? Allora Eh Ciao Francesco Per me è uguale Anche per me Ah ok, ciao a me Mi ha buonato anche a te No, decidetevi però Io posso guidare Intanto voglio capire dov'è l'italiano Perché si sta lontano da me Sto ragazzi Ve lo dico Allora, io sono al timone Gira, gira un po' a destra A destra? Sì, a destra il timone Chi ha il timone? Giro, io, io Giro intorno all'isola C'è il giro No, no, no A destra Proprio tutta a destra Ora non lo vedo più Il galeone Quindi Ok, lo intravedo Sì Ok Sono a gonfie vele loro Non so dove stanno andando Dritto, dritto ora C'è un addirittore Ok Questo si sfonde Proprio Lo vedo, lo vedo Rifornisciti Ma in sinistra Lo vedo, lo vedo Per ora finché è fuori dalle vele Lo vedo Allora Noi cerchiamo di puntare le vele Anche noi Rifornitevi di pali i cannone Le munizioni c'è perciò Allora Munizioni cariche Vale di cannone Vale di cannone Dove cacchio sono Che non sono niente Calle di pannone Siamo Sì, sì, la vedo La vedo Siamo Però ci sta portando a navigare Ce la vediamo Vento in po' Vado anche la ciliegna Pannola Meglio così Più lenti si fa Meglio Questa roba Hanno fixato il problema Delle armi allo spawn Ora non si spawno più Sì, ho notato Ho notato Cioè, dici che ti lascia Quelle che avevi lasciato Dell'ultima volta No, ti mette spada E pistola No, no, pistola Hanno forza acceso le luci E spenti un attimo Il moschetto Facciamo le scelte Stanno tirando su le vele Stanno tirando giù Sì Cioè, stanno levando le vele Quando si è abbastanza vicini Dobbiamo ad alzare le vele Forse stanno compiendo una virata Sicuro di non voler stare ai cannoni Che vuole stare al timone quindi? Preferisci stare al timone, Lucio? E... Per me è uguale, è uguale No, è che ho sparato molto meno di voi Quindi ci sto anche ma con il rischio di non prendere niente Comunque se vuoi vai pure al timone, io son giù Vabbè, ci si potrebbe alternare Sì, sì, ma a me mi va bene cosa succedere due Hanno tutte le vele su, ragazzi O ci stanno aspettando Cioè, non posso non averci visto, dai O stanno virando Perché ha tutte le vele su O sono andati su di sol Eh, anche secondo me O se li facciamo attacco stealth Mi butto giù io con la cosa? Quella da polvere a sparo? Sì, ovvio Vuoi farlo? Te lo faccio io Come vuoi Occhio, adriccia un po' perché sta andando contro l'isola Ragazzi, abbiamo un teschio qui, nascondetelo perché è un teschio di quelli belli importanti Mettetelo sulle vele Se riuscire Ma dove, dove cacchè sono loro, ragazzi? Ma dove siamo noi? Siamo subito, sto... Lo voglio prendere bene Ma dove sono loro? Eccoli, sono davanti a noi Un po' più a destra Io nascondo lo scarso qua su, eh Non vedo nulla, dove cacchè sono? Ah, ok Ma si stanno muovendo? Ehm, no Voglio prenderli in modo tale da poter ripirare No E affiancarli Porca putt' E' fatta male... E' il zardo alla centrale Faccio io Eh, vado, andava, 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 andava Stanno girando? Sì, stanno girando la nave Non so se li stanno girando loro O se li stanno girando per la corrente Ma stanno girando la nave Per la corrente non può girarsi così tanto Sì Oddio, quando ormeggi sì Te lo fa lui automatico, praticamente Erano già fermi, quindi Vado a prendere le palle di cannone Sì Anche eventuali banane Ma si C'è da prendere un po' di tutto Sì Sto girando tutta la nave Quando ormeggi lo fa Palle di cannone sono al massimo Ok, banane Azzaro a vero davanti A meno a vero Un quarto Che momento, attenzione che si dà la con Cristina Esatto Sto c'è la mia capire se c'è qualcuno Faccio anche io Sta albeggiando, sta albeggiando Sta cosa non ci piace E se prendessi fucile da cieco? Non conviene No Meglio la sparaspingarda Sono carichi i cannoni qui? Allora controllo Sì Direi di sì Usa, usa, usa Usa Robo inizio a prendere il barrile Il barrile Che se no, tanto c'ho qui accanto C'ho qui dietro in me c'ho il barrile Ok Il barile Ok, a non andare però di lato Perché si va di lato Eh, però Noi siamo troppo di brutta Non si può Sparare il cannone Mi raccomando Robo Il barile Non il barolo Perché Costa troppo Un barile di barolo Ma quelli sono sull'isola per davvero Vediamo un po' se li vedo Li vedi? Allora In nave non vedo nessuno Secondo me sono andati alzando Sono caduto Sono caduto Hanno alzato le vene Eh, caspita Si stanno girando Porca l'oca sono caduto Ragazzi sono giù Metti l'ancolo No, no, non metti l'ancolo Ok, non metti l'ancolo Alzate una vela Alzate una vela Se riuscite Ok, ci sono, ci sono Ci sono Alzate o abbas Ci sono Andate, andate, andate Ci sono In questi sono forti, eh Dai cannoni Eh, ci sono Sinistra Sinistra Ragazzi, stiamo veramente a loro merci adesso Caspita E ci stanno girando Hanno detto grazie Grazie Scusa Che cazpita Oh, addio ragazzi È finita Guardate come si sono piazzati No, stanno attrezzandosi No, loro non vogliono attaccarci Loro non vogliono attaccarci E se No, pare di no Non c'è nessuno di loro e cose Io faccio finta di salutare Scusami Ma se si facesse l'infame fino alla fine No, c'è molto tipo il saluto Hai cannoni Ma io qualcuno è male? Ma che questi ci sono Di loro? No, no Mi sembrava Invece no Sono lì I cannoni Ripeto, i cannoni Ci sono Aspetta, aspetta, aspetta Saluta, non saluta Ecco lì Ecco Oh, mi sono buttato male Mi ha fatto una cazzata, ragazzi Comunque mi guardo Mi sembra dove ho lasciato qua Io Eh sì, ma ora non li affogliamo Qualcuno vado a riparare E non arriva il tritone Non arriva il tritone Ho sbagliato Vado io Ci sto andando io Ma il tritone Mi tocca abbandonare la polvere La sparo lì No, è il mio polvere E' come l'impresione però che siano uno di più di noi Però non ci sono fatto tanti bambi Hanno colpito sopra Non so Non so Nella gente di scrivere Il cecchino lo pito Ancora Dove sono? Ancora Dove sono? Sì, manovra Divasione Ancora Ok, tu c'è l'ancora a togliere Io sto già spingendo Sto già spingendo La 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 Voglio prendere Il cecchino Ma qui abbiamo dei buchi Non sono tappati Sì No Non ho sprecato Per quello Dici di non sprecarle Poiché sono alla seconda fiancata Ti polverei a sparo C'era un'altra tanto No se non sbaglio Non sapevo Che se ti si riempie un po' Quella prima Con questi sei buchi Che ci abbiamo aperti sotto Sette Anzi Dove è la polvere a sparo? Otto E non lo so se ce ne arriverà Sì, ne avevo preso due Meno male non sanno sparare raga Ve lo direi Ma non so dove sono loro Dove sono ragazze Ah, sono lì Sto davanti a noi E si stanno piazzando bene C'è da girarci anche noi Ah, girati un po' Girati verso destra Destra? E' qua lì No, vabbè, devo aprire Hai cannoni? Hai cannoni? Ma se ci sono i buchi Guarda Io l'ho preso E' un hit Ah, ci stanno sparando sotto Eh, cosa fai? Vuoi imparcare l'acqua? Anche io stanno sparando Ti lascio l'acqua sotto Guarda, così Ma ho finito i cannoni Beh, un po' di danni L'abbiamo fatto, eh Solo un po'? Vittati Com'è la situazione qua? Ti merda Praticamente, però Eh, vabbè Guarda che avranno già Ci continuano a sparare Con le caccole Ma non sono proprio buoni A sparare, tra Dio Comunque si stanno rigirando Di nuovo, eh, bimbi Non sprecate così Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Se lo prendi E invece Per fargli Vai, 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 vai PORCA PALETTA E se usiamo l'ancora veloce veloce? Tipo così? No, albe no, cazze fa poi Porca Scena presa direttamente dal prossimo partito di Caraibi Eccoci qua Però siamo proprio la merce loro, guarda Ma non stanno affondando? Eh, devono essere in tanti per riparare Ah, io l'ho preso Caspita Mi ci vuole palle di cannone Canne di pallone Canne di pallone Eeeh Dove caspita Perché Arrivano in colpo Ragazze Vado giù Cosa L'ho preso Cosa Perché Cosa 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 Stiamo affondando noi, stiamo affondando loro Caspita, sono scarico Ma se io andassi a fare l'incursione Ragazzi, ragazzi, giù, giù, giù Se non vedo, io giù, si va giù Ci sono tre buchi Uno lo sto riparando io Il secondo lo sto riparando Sto riparando anche il terzo No, si affonda ragazzi Siamo pieni, avevamo tutti quei buchi sopra Non ci si può fare niente Allora Ci hanno affottuto Eh, raga, purtroppo si succede così se non guardate dietro Io da un po' che mi sta facendo ragazzi giù, ragazzi giù, ragazzi giù Ma sai qual è il problema? Dovevo riparare io i buchi prima Perché è vero che sono sulla seconda paratia Ma se si beccano poi sette non le tappi più Siamo morti con onore Ah, tra l'altro c'è uno che mi ha ucciso dietro Che era di qualcuno Vabbè, sei finito col botto, dai Poi, hai paura, ci hanno scratafantrato Notte a te, Lesciana Grazie, ciao, buonasera Mi invitano direttamente nel livello master Buonanotte a te, buonanotte a te Avevamo il teschio Avevamo il teschio Avevamo il teschio Eh, vabbè, meno male uno solo, eh Pensa se ci prendevano prima Pestia, davvero Questa la racconteremo ai nipoti Vabbè, allora Eravamo uno in meno noi fra l'altro Eravamo uno in meno Poi abbiamo provato a dosare, giustamente Di non toccare perché avevamo sette buchi giù, eh Alla seconda paratia Quindi il problema qual è? Che se ti beccano una volta al piano di sotto Eh, sì, io ho fatto la stronzata che Ho usato mai la polvere da sparo Cioè l'ho sprecato una polvere da sparo Che male avevo due Eh, non lo so dove era l'altra Eh, uno era giù nella stanza del capitano, eh Direi di Vi vuodere in bellezza, quindi Ne ho una boccale Io un nozzo al mercante Con il fucile da ciocchino Gina, riempimi il boccale Dove sei? Io sono alla taverna Ah, allora arrivo Che c'ho qui, che c'ho qui Al Vabbè, Al è ovunque Era anche in barca con me Ce lo dio Al è incredibile Ma è ovunque Tra l'altro nel mio boccale Sembra tipo che c'ho una roba strana La mia fa un artista Sì, ci arriviamo a rusher Ci arriviamo, ci arriviamo Eccomi Il mio grog è tipo blu fosforescente con questo boccale Allora, dove è il mio boccale? Vestia quanto trinca A posto? Tina Riempimi il boccale Dai Tina, su Per favore Se concludi con una sbronza è ovvio Vedo già che sta andando davanti e indietro Io mi metto sulla panchina Chi è che è buono? Chi è secondo te? Alfonso Ma non lo reggi Ma perché puntini? Non lo reggi Si inizia a ballare E ora si suona E te che vado a prendere un altro boccale se mi riesce E te che vado a prendere un altro boccale se mi riesce Non riesco Senti me vomita lui E' finita Tina Per favore Tina Ti prego Tina Ancora Tina ti amo Sto già vomitando io Sto già vomitando fra l'altro Tina ti amo Non te lo sento mai detto Tirare da me il boccale Sto già vomitando direttamente nel boccale in cui sto anche bevendo Ma no Sto già veniamo col bocco Non si spreca nulla proprio Ehi Cosa fai? Andiamo sulla nave Ma io ho tutto vomitato E ora ho un parolone Andare sulla nave Ehi Sto già voto di sotto Io riesco Mi sono più bravo di te Ma riesco a farci Io forza riesco a arrivare in fondo al pontile Senza cadere in mare No Aiutatemi Sto sbandando potentemente Mamma mia Il pontile Vedo tutto storto Ce l'abbiamo un po' di grog Tina un po' di testa per favore Addio Non riesco a tornare indietro Sbattiva un palo No Non ce la farò mai a fare il pontile Te lo dico Sto arrivando Ti sto superando È impossibile Ti sto superando Guarda 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 Si potrebbe fare la corsa del pontile Io sono rimasto da qui Io sono rimasto da qui Io sono rimasto da qui Bisogna avere tutti allo stesso Oh ma Alla cosa stai facendo? Ah È grave Aspetta Sto arrivo Sto arrivo Aspetta 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 E chi si muove? Ci sono Sono qua Sono qua Prima però bevo un po' Sì infatti devo Devo dimenticare Quello che per la successa Troppo meglio Ci hanno affondato Dov'è? Io non trovo un cazzo Su questo galeone Giù 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 Qui 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 Eccolo Galeone Grazie Tra l'altro guarda Con il boccale che c'è Che sembra che sto Benendo un'orba fosforescente È vero Ma proviamo Invece sembra che ci abbia Vomitato sangue dentro Questo qui l'ho preso Sempre dalla tipa di teschi No ma davvero? Sì Devo andare allora Dalla tipa di teschi Ok andate sul mio equipaggio Poi in basso a sinistra Affondiamo la nave? In basso a sinistra E clicca Affonda la nave Esatto Due o tre voti Io ho votato Ho votato anch'io Così? No 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 Chi è caduto? Io No 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 Buttate l'ancora Buttate l'ancora Buttate l'ancora Buttate l'ancora Aspetta Se ci arriva l'ancora Vedete lo slime all'ancora Vai buttate Ho provato ad andare sul ponte Ma ovviamente è stata una pessima idea Mi sapete ubrietare Perché Mamma mia Come suona male Che tristezza Dai votato Io ho votato di sì Ma iniziamoci in un punto comune però Che manca? Io l'ho fatto Iniziamoci in un punto comune Ha cliccato su sì Single Sì Vai Addio È la morte Abbiamo aperto tutto Addio ramici È stato bello Dai riparlate la nave Come riparlate la nave? Nooo Io voglio morire giù Io voglio morire giù Ma io voglio morire qui Ma io voglio che Non voglio morire qui Mi so Annotare Io resta in della mia nave Io no Io vi lascio guardare Annotare giù Addio Addio amici Che impressione C'è l'organizzazione del Titanic Più o meno Davvero Ma voi siete andati in fondo con la nave Sì sì Siamo svegliati Io voglio morire con voi Vengo giù Voglio morire con voi Jack 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 Ma che fate? Tornate su Trunks Questa volta Palla mentre muore Ma tranquillo Lucia Tanto anche noi la stacchiamo comunque Che questa balla mentre muore Sei un perso Vuoi vedere il fondo dell'oceano? Sono convinto che nel fondo dell'oceano c'è qualcosa di meraviglioso Sì c'è Ora scopro Raga Girando Guardate Guardate cosa c'è Cosa? Mi doverete cosa c'è? Cosa c'è? Il raid? Esatto Nooo Stai scherzando No? Vabbè Dio non esiste Io sono sul fondo dell'oceano Io muoio in 3 2 1 E c'è un pulsante Che se premo Faccio 50 50 50 su tutto Sono morto Affogato Eccoci Ciao Leo Ciao Ballo? Si finisce di andare a dormire coi pesci Tra l'altro vedo un personaggio senza niente Sbarbato Tutto Eh la morte ti fa bella Esatto E' famoso Va bene Notte Lucio Notte anche a te Direi di chiudere qui Esatto Sono anche un po' stanco E fra l'altro Quindi Ringrazio Chi è Che è rimasto Fino alla fine Ringrazio Leo Ringrazio Al E Saluto tutti i ragazzi Che sono su Twitch Da Dal vecchio Nupo Ne approfitto Danke Anch'io saluto te Saluto Alfonso L'Ubiquo Perché ormai lui è Abbiamo capito che È Ubiquo E rinnovo a Lucio Che anche se è andata a nanna Che poi rifacciamo una cosa Insieme anche con lui Un abbraccio Robo Grazie davvero Uh Ecco Volevo anche lasciare Scusami Leo Scusami Niente Semplicemente Se fai Qualcosa di giovedì Come Sceglierai con i tuoi Followers Io ci sono Se vuoi Volentieri Volevo far vedere In live adesso Già che ci siamo Che il buon Arashi Ha fatto Una fanart Ora Io intanto saluto i miei Così chiudo la mia trasmissione Grazie a tutti Ciao Alla prossima